1919 l'anno in cui nasce Citroën, in quasi cent'anni di storia il marchio ha saputo rivoluzionare il mondo più volte. Lo ha fatto con delle vetture iconiche, ad esempio la 2 cavalli e la Meari che abbiamo portato qui al salone dell'auto d'epoca di Padova, con quella che è la loro degne erede, la vettura che incarna al meglio quei valori, la C4 Cactus che proietta il marchio verso il futuro. Alla fiera auto-moto d'epoca di Padova, Citroën presenta uno stand legato al concetto Be Different, alla creatività e al design diverso, originale e unico, così come è nel DNA del marchio Citroën. Due cavalli soleil. Serge Gevin, il designer che l'ha concepita quasi 40 anni fa, ha detto che la voleva bianca, gialla e guardandola si dovesse pensare al cielo, al sole e al mare. Abbiamo restaurato completamente questa 2 cavalli del 1982 con questa serie speciale che non era mai nata e che invece siamo riusciti a portare alla vita quest'anno. Un prodotto che giustamente ha qui alla fiera di Padova un ruolo sicuramente importantissimo. A fianco di due cavalli, la Citroën Meari, nata nel 1968, una vettura che ha stravolto completamente le regole come di solito fa Citroën per quanto riguarda le sue vetture più riuscite. Una vettura che ha la carrozzeria in materiale plastico, particolare in ABS, per la prima volta utilizzato in campo automobilistico. Una vettura che ispira proprio la gioia di vivere e la vita all'aria aperta, che è veramente diventata parte dell'icone del mondo automobilistico. Di fianco a Meari ritroviamo sullo stand di Padova anche una C4 Cactus, una vettura dal design originale, unico, riconoscibile, una vettura che ha molti brevetti internazionali, quindi una vettura che si ripropone come manifesto del mondo Citroën e che è diventata in poco tempo un successo anche dal punto di vista commerciale.